non sapevamo anche dei nostri brass che oggi sono stati senza i brass che sarebbero i fiati sono stati i finto brass che c'è? eh no va bene adesso potete andare a mangiare un panino o qualcosa no vogliamo suonare un pezzettino tu lo sai? vuoi suonare con noi? un pezzettino di capitani coraggiosi ma serve no? difficile così eh? abbiamo finito la grande va beh dai un pezzettino ma io non l'avrei fatto infatti anche perché no perché qui cominciamo entriamo in zona concerto cioè siccome siete venuti tutti senza cacciare niente siccome stiamo entrando in zona concerto guardate io lo dico anche per Moratti che è molto più oculato di me questo dovrei usare la parola oculato vediamo dai se ci viene questo ho l'altra chitarra Gianni mi raccomando la divisione allora come fa?